se denaro ce ne sarebbe se la vostra stupida musica venisse eseguita nessuno la vuole oh è la colpa di chi è? non mia di certo io vorrei che la eseguissero non chiedo altro ma quando penso che la madamella sulla panchina ha fatto più di 25.000 franche questa sede musica che cosa viene guadagnata voi in due anni? 172 franchi e 50 grazie cara io signore a 25 anni di che guardavo al carico e dove anche a vicere ero soltanto una donna e prendevo più di 25.000 franche l'anno perfetto con gli incendi ricco ma non state insultando la vostra voce io non sto insultando nessuno ma ne ho abbastanza di queste scelle contine di queste gambe rincuove se credete che sia facile sentirti dire da mattino alla sera che non si è talento che non si è incapaci che sia finiti che ricco ma io non ho mai detto questo ma io non ho mai detto ma io non ho mai detto che sono finito ma io non ho mai detto che sono finito ma io non ho mai detto come è stato di mettere il primo Nell'isola deserta 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 il signore è uscito è una figlia no, il signore è uscito con il signore però va, è rinviato, è rinviato devo venire a mettere male, mi accomodate, mi accomodate, ho preso, ho preso ma che cosa vuol dire, tutta questa laudina entrate, non entrate, non fate il cuore, aspettate passiamo a questa vostra, sì o no? Vittoria, per favore, andate, 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 che qua fa poco sì, farà un tremendo temporale allora, andate, volete rispondere? non mi sembra il caso di parlare davanti alla domestica ma insomma, ma perché tanti segreti, tanti misteri, tanti sottofugi sembrate un conspiratore? siete o non siete il mio genere? sono o non sono vostra moglie? ma certo che è così, ma certo che è così sì, però vi avevo detto che avevo una vita e che mia vita avevo un maligno ecco e allora? e allora, e allora non ho avuto il coraggio di dire proprio che mi sono sposata ed essi del resto non si aspettano una notizia del genere dico, la verità, questo primo incontro mi fa un po' paura per caso non siete libero di agire come vi pare? mi accalati anche assolutamente 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 per avere forze di perdere il nostro agendio, no? so benissimo cala su, ce la cala si fa perdita che mi sembra una cosa straordinaria ma sono ansioso di sapere, lo confesso, come la prenderà? per fortuna non sono in casa quindi è il tempo di preparare qualche macchinicegno qualche piccolo trucchetto mamola colibro ah, su, ce la per invertere spiagano con la parola spiagano con la parola non so che cosa ti prende da ieri sera ma siete di un pispatico innanzitutto io sono educato con tutti e pretendo che tutti lo siano convinti sappiate una volta per tutte vedo va eeeh ah, ah hanno portato una cazza direi come? hai sentito? no hanno portato una cazza cazza questa è una cazza che non deve direi come una volta ma chi l'assunta? chi l'assunta? 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 guardate chiaro guardate chiaro guardate chiaro è molto figo elegante eeeh si si comunque guardate in questa io vi posso dire una cosa in questa grande cazza cazza ci sono dei nindoli che ho portato per voi ma papà hai pensato a noi certo e come potevano pensarti pimpina mia ma papà voi mi siete dopo passiamo le mani dopo un simpatico mi siete scelta esprimetevi la vostra simpatina in altro modo da lontano come mi siete simpatica come siete bello come siete dolce va bene va bene va bene non qua e poi mi fate male mi siete molto simpatica no ma non vi mandate la testa però eh però non andate di borsi sono tanti i primi edifici ma rigiuo vieni rigiuo che non voglio fare la ponte ma mamma bella parola noi caratiana usciamo di qui e devo pagare la shampoo montiamo di qui qui ma come la shampoo si dalle lecce dalle lecce dalle lecce la mamma non andate di borsi ma dai non andate di borsi ma questa mamma mi stareà ma questa mamma ma questa mamma ci sono delle lecce ci sono delle lecce eh le vedo e le compadisco E quindi le farò rigare. E poi diventa piante? Sì! E voi? Ah, dunque, noi ci diventremo, cari signori. Ah, sì! E sapete dove? Non ci tengo dove. Il Tribunale! Ehm... Vasi accontente, accontente, accontente! La data del 20 settembre? Certo! Che bene di notare io! Allora! La data del 20 settembre? Ah, la data del nostro matrimonio? E' quella del mio divorzio! Del mio divorzio! A te! Che il povero shampoo! Oh! C'è bisogno di accompagnire! Per chi lo sa, chi lo sa! Quella è una rotterina, una rotterina! E il divorzio una scatola sorpresa!